Un cordiale saluto, buona epifania e benvenuti a questa seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo subito con i numeri dell'andamento della pandemia nella nostra regione. Sono 4.808 nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo. Dei positivi odierni, 3.670 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 6.519 tamponi molecolari e 30.896 test antigenici. Così il tasso di positività calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno è pari al 12,85%. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 37.977 più 4.662 rispetto a ieri. I 248 pazienti con 22 nuovi ingressi sono ricoverati in ospedale in area medica. 24, dato invariato invece rispetto a ieri, sono in terapia intensiva. Mentre gli altri 37.705 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASLE. I nuovi guariti sono 144. Il bilancio dei pazienti deceduti registra un nuovo caso e sale a 2.655. Del totale dei nuovi casi positivi, 1.520 sono residenti o domiciliati in provincia di Chieti, 1.184 in provincia di Teramo, 1.021 in provincia di Pescara, 781 in provincia di L'Aquila. 135 fanno riferimento a casi fuori regione, mentre per 166 sono in corso. Verifiche sulla provenienza. E noi continuiamo in questo argomento, obbligo vaccinale per over 50, estensione del Super Green Pass e regolamentazione dei casi all'interno delle scuole. Queste le principali misure adottate dal Consiglio dei Ministri di ieri per contrastare l'ondata di contagi dovuta soprattutto alla variante Omicron. Jacopo Forcella. La principale novità introdotta dal decreto Covid varato ieri sera riguarda l'estensione dell'obbligo vaccinale a tutti gli ultracinquantenni. Per loro, fino al 15 giugno, compreso quindi chi compirà gli anni entro questa data, non sarà più possibile evitare di sottoporsi alla profilassi. Tra questi, ai lavoratori, che siano dipendenti pubblici, privati e autonomi, sarà quindi chiesto di esibire il Super Green Pass. A coloro che sceglieranno di non adeguarsi all'obbligo sarà combinata una sanzione di 100 euro ad ogni controllo o, se lavoratori, la sospensione dal posto di lavoro. Nel caso in cui un lavoratore ultracinquantenne dovesse ottenere dal proprio medico di base un certificato di esenzione dalla vaccinazione anti-Covid, non solo ovviamente non potrà essere sospeso, a differenza dei colleghi Novax che dovranno rinunciare alla retribuzione, ma il governo invita anche i datori di lavoro a spostare i dipendenti senza vaccino per cause di forza maggiore a mansioni diverse da quelle abituali, senza decurtazione della retribuzione, per evitare il rischio di diffusione del contagio. Per tutte le aziende che dovessero trovarsi costrette a sospendere alcuni dei propri lavoratori sprovvisti della versione rafforzata della certificazione Covid, il governo ha introdotto la possibilità di sostituirli temporaneamente, estendendo la misura fino a questo momento prevista solamente per le piccole e medie imprese, fino a 15 dipendenti. In ogni caso la sostituzione rimane di 10 giorni rinnovabili fino al 31 marzo, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso. Nel nuovo decreto viene introdotta anche l'estensione del Green Pass base, ottenibile non solo dopo vaccino o guarigione, ma anche con l'esito negativo di un tampone molecolare o antigenico, effettuato nelle ultime 48 ore all'utenza di tutti gli uffici pubblici e di tutti i servizi. Vale a dire due settori finora rimasti completamente esclusi, se non per i dipendenti degli stessi, dai meccanismi del certificato verde. In sintesi, a partire dal 1 febbraio per andare in banco alle poste sarà richiesto di esibire il QR code. Inclusi anche i cosiddetti servizi alla persona. Vale a dire che dal prossimo 20 gennaio, tanto per accedere dal parrucchiere quanto per l'estetista, sarà necessario esibire la certificazione verde. A dispetto delle anticipazioni però, non nella sua versione rafforzata, ma solo in quella base. Dal 20 l'obbligo del Green Pass base entrerà in vigore anche per accedere alle attività commerciali. Tuttavia, nel testo del decreto viene specificato come entro 15 giorni dall'approvazione verrà stirata una lista più precisa delle attività coinvolte dalla nuova misura. Il nodo da sciogliere infatti riguarda supermercati, farmacie, negozi di vendita al dettaglio, alimentari, tabacchi ed edicole, ma considerati servizi essenziali e quindi andrebbero esentati. Con il decreto il governo modifica anche la gestione dei casi Covid a scuola. In quelle dell'infanzia con un positivo si va in quarantena per 10 giorni, mentre alle elementari con un caso si applica la sorveglianza con testa al primo e dopo 5 giorni, mentre con due casi si resta a casa per 10 giorni. In media e superiori invece con un caso si resta in classe, con l'autosorveglianza e l'utilizzo della FFP2, mentre con due casi vanno in dad per 10 giorni solo i non vaccinati e chi è guarito o vaccinato da più di 4 mesi senza aver fatto il booster. Con tre positivi invece tutta la classe è a casa per 10 giorni. Un punto quest'ultimo che ha visto salire l'attenzione nell'incontro tra governo e regioni, poiché nella bozza del decreto la didattica a distanza era prevista con 4 casi. Alla fine la norma è stata cambiata in Consiglio dei Ministri e la richiesta dei governatori è stata accolta. E la regione Abruzzo è prossima al cambio di colore da zona bianca a zona gialla. Ora attenzioni rivolti agli screening per la popolazione scolastica che tornerà tra i banchi il 10 gennaio. Ma il presidente della regione Marco Marsiglio invita il governo a rivedere i parametri che incidono sulle percentuali dei ricoveri. Vediamo il servizio di Andrea Costantini. Conto alla rovescia per il passaggio dell'Abruzzo in zona gialla, l'aumento esponenziale dei casi dettato dall'elevatissima trasmissibilità della variante Omicron, ieri la regione ha avuto il record di casi in 24 ore, oltre 5.300 nuovi positivi, ha generato una crescita anche dei ricoveri in area medica, oltre 220, e in terapia intensiva, oltre 20. Dati al di là delle soglie del 15 e 10% rispettivamente, che abbinati anche ad una incidenza già da tempo ampiamente superiore ai 50 casi ogni 100.000 abitanti, portano al cambio di colore. Gli indicatori purtroppo evidenziano quelli che sono i punti importanti per cambiare il colore, la zona della nostra regione. In effetti non cambia molto, questo lo dobbiamo dire. Quello che ci preoccupa è questo aumento esponenziale sia dei positivi, ma soprattutto in questo momento anche dell'occupazione dei posti letto, sia in area medica critica che da parte delle terapie intensive. Vorrei sottolineare che il 70% di questi posti letto, purtroppo è occupato dalle persone non vaccinate, sono quelle a maggior rischio. Nella unità di crisi di ieri, il governatore Marco Marsilio ha fatto sapere che le regioni hanno chiesto al governo di rivedere la composizione dei parametri. C'è una alta incidenza di asintomatici che vanno in ospedale per altre patologie e che una volta scoperti vengono impropriamente computati. E questo è improprio perché in realtà quel sistema che avevamo individuato come regioni discutendo con il governo per imporre questo meccanismo serve a valutare quanto il Covid impatta sugli ospedali. Quindi le persone che finiscono in ospedale per colpa del Covid e non che vengono scoperte casualmente e asintomatiche perché quello non ha nessuna incidenza da quel punto di vista sull'impatto sanitario. Le modifiche più sensibili sono tra la zona gialla e quella arancione un evento da scongiurare e che si verifica quando si superano le soglie del 30% dei ricoveri in area medica e del 20% in terapia intensiva oltre che una incidenza superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti. Le attenzioni sono ora rivolte sugli screening della popolazione scolastica con il ritorno tra i banchi posticipato al 10 gennaio. È importante lo screening che stiamo portando avanti per la riapertura della scuola che sarà il 10 e nei giorni precedenti tra l'8 e il 9 si svolgerà lo screening su base volontaria di tutti i nostri ragazzi. La regione Abruzzo non ha problemi di approvvigionamento di vaccini ed è pronta a qualsiasi necessità anche all'obbligo vaccinale per gli over 50. Lo afferma il referente regionale della campagna Maurizio Brucchi al microfono di Paolo Renzetti. Direttore, campagna vaccinale, insomma come stanno andando le cose in questi giorni? Ci sono tante file ma era comprensibile? Ma ci sono tante file perché c'è tanta gente che ha voglia di vaccinarsi che non rispetta a volte neanche la prenotazione perché vuole vaccinarsi subito. Stiamo andando bene, siamo come regione due punti sopra la media nazionale oltre 340 mila dosi somministrate per cui insomma mi sembra che stiamo andando bene. C'è un po' di pressione sulla vaccinazione ma la stiamo affrontando bene. Molti stanno decidendo di vaccinarsi proprio in questione anche per la prima dose? E' vero, ci sono anche un numero di prime dosi importanti però insomma alla fine noi vacciniamo tutti. Prime dosi, seconde dosi, terze dosi. La campagna vaccinale abruzzese è andata e sta andando molto bene. Ci potrebbero essere problemi per gli approvvigionamenti dei vaccini, direttore? No, fino ad ora non c'è nessun problema e le sono previste consegne sia per il mese di gennaio che di febbraio. La regione abruzza è pronta, vediamo cosa decide il governo e lo applicheremo senza problemi. Oramai la macchina è rodata ed è in grado di aumentare e diminuire qualsiasi tipo di attività. Può confermarci che nei prossimi giorni aprirà a Pescara un altro hub vaccinale al Palafiere? Guarda, è in itinere questo discorso, questa è una competenza dell'AS di Pescara, però ripeto, è un sistema che può aumentare e diminuire il numero degli hub secondo le necessità. Questa è la cosa positiva della campagna vaccinale abruzzese. Sabato, domenica e lunedì a Pescara si terranno, come detto, gli screening per gli studenti delle scuole cittadine. ASL e Comune invitano i ragazzi ad aderire in vista delle riaperture delle scuole. Vediamo. Partiranno tra poche ore gli screening nelle scuole di Pescara, scuole primarie, scuole secondarie, scuole superiori. Assessore, è un grande lavoro che avete messo a punto e tra poche ore ci sarà il via a questi screening. Allora, abbiamo chiuso gli incontri ieri sera alle ore 21 con l'AS, con il direttore generale e con il dottor Polidoro. Siamo riusciti a trovare il personale per effettuare questi screening prima che i ragazzi tornino a scuola. Quindi saranno effettuati gli screening l'8 e il 9 di gennaio. Nella scuola media Foscolo e nella scuola media Rossetti faremo lo screening per i ragazzi delle primarie e scuole medie. Invece, nella palestra del liceo scientifico Galilei in via Balilla faremo lo screening per i ragazzi delle scuole superiori. Non c'è obbligatorietà per fare lo screening, però un consiglio che io posso dare a tutti i genitori di fare effettuare questo screening ai ragazzi in modo da tornare a scuola in sicurezza. Abbiamo lavorato tanto per organizzare questa cosa prima che i ragazzi tornassero a scuola, quindi vorrei che anche i genitori ci dessero una mano per far sì che tutto sia sotto controllo. C'è stata qualche incertezza in questi ultimi giorni, perché sembrava che le scuole l'avressero procrastinate alla settimana successiva, se non addirittura a fine mese. Però il governo centrale ha deciso di riaprire le scuole in presenza, quindi noi ci siamo preparati e siamo pronti per far sì che tutto ciò accada. E a Pescara l'organizzazione degli screening è arrivata in zona Cesarini, mentre la crescita dei casi nell'area metropolitana è esponenziale. La vaccinazione è in grosso affanno e da tempo è saltato il tracciamento dei positivi. Queste le parole di Corrado Di Sante, segretario cittadino di Rifondazione Comunista Sinistra Europea. Il centrodestra, il Comune e la Asle di Pescara hanno confezionato l'ennesimo pasticcio. Lo screening, a differenza di quanto previsto da altri comuni, prevede la somministrazione dei tamponi alla sola popolazione studentesca, escludendo tutto il personale scolastico, docenti, assistenti amministrativi ed educativi, collaboratori scolastici, addetti alle mense, autisti degli autobus. Perché? Rivolgiamo un appello al sindaco Carlo Masci, alla Asla, all'ufficio scolastico Pescara Chieti e ai dirigenti scolastici per permettere anche a tutto il personale di poter effettuare lo screening. Come minimo, la giunta di centrodestra spieghi i motivi di tale esclusione. Si ha come l'impressione che più di fare sul serio si voglia semplicemente timbrare il cartellino. Se davvero si vuole evitare il ritorno alla didattica a distanza, si prevedono sin da ora screening periodici con unità mobili scuola per scuola. Chiude Corrado Di Sante. E numeri in linea con quelli che sono i dati attuali. Matteo Perazzetti, sindaco di Città Sant'Angelo, che parla anche della campagna vaccinale. Vediamo. Sindaco, Città Sant'Angelo non è da meno degli altri comuni della regione Abruzzo e anche lì il Covid sta facendo numeri importanti purtroppo, possiamo dirlo. Sì, noi abbiamo sotto controllo tramite il nostro gruppo di medici di base del territorio che ci forniscono costantemente e ci aggiungono costantemente sull'azione del Covid all'interno del nostro territorio. La recrudescenza è importante, ci sono tante persone che oggi purtroppo stanno affrontando questa battaglia. Naturalmente la maggior parte, se non la stragrande maggioranza e non vorrei dire proprio la totalità delle persone è a casa, quindi comunque senza grandi sintomi. Questo naturalmente è portato anche dalla campagna vaccinale effettuata. Teniamo sotto controllo la situazione, cerchiamo di mantenere il distanziamento ed evitare l'assembramento. Io credo che bisogna continuare a vaccinarsi perché i vaccini sono la protezione totale verso questo virus, il che significa che ci permette di affrontare un post-virus in maniera molto più soft, dall'altra parte riuscire a mantenere i giusti atteggiamenti e i giusti comportamenti. 1.800 ragazzi e studenti sul territorio, dalla primaria fino alle scuole superiori. Noi stiamo organizzando insieme di concerto con l'Asle della regione Abruzzo un screening con i tamponi su tutta quanta la popolazione scolastica. Abbiamo, e devo ringraziare i Dio, ad oggi e fino ad oggi non avuto grandi situazioni, grandi focolai nelle nostre scuole. Questo naturalmente è portato anche grazie alla sensibilità delle nostre dirigenti, è uno studio proficuo degli spazi che noi abbiamo. Oggi stiamo finendo di costruire le ultime quattro aule di un plesso che aveva delle criticità per gli spazi ridotti, questo significa che dobbiamo riuscire a prevenire perché curare naturalmente ci costa molto di più. Chiudiamo ora questa lunga pagina dedicata al Covid e cambiamo argomento. Il Tar Abruzzo boccia il progetto per le nuove piste di sci a Dovindoli. Il ricorso era stato presentato dalle associazioni ambientaliste. Le regioni Abruzzo e Comune però non ci stanno e annunciano che la battaglia legale proseguirà. Vediamo. Il Tar Abruzzo boccia le nuove piste da sci a Dovindoli. Il ricorso era stato presentato da alcune associazioni ambientaliste. La sentenza ha annullato le autorizzazioni del Comune di Dovindoli e della regione Abruzzo per la realizzazione di nuove piste da sci e nuovi impianti di risalita in un'area di circa 10 ettari sul Monte Magnola, nel territorio di Dovindoli, nel parco regionale Sirente-Velino. E' veramente inaccettabile un blocco di uno sviluppo turistico non solo di Dovindoli ma dell'intero territorio. Noi con i nostri legali e con i legali della regione siamo già al lavoro per predisporre un eventuale ricorso perché è una sentenza che ritengo non sia un danno solo per Dovindoli ma per l'intero Abruzzo e potrebbe creare problemi anche ad altri comprensori sciistici. Quindi possiamo dire che non è finita qui, voi continuerete ad andare avanti? Sicuramente una delle strade da percorrere è quella, poi è chiaro che i nostri legali ci daranno indicazioni nei prossimi giorni e vedremo il da farsi, queste cose vanno analizzate a 360 gradi. Quindi vedremo il da farsi però siamo pronti anche sì ad andare avanti perché, ripeto, per noi, per me è inaccettabile. Eventualmente abbiamo anche altre soluzioni, il famoso piano B di cui se ne parla. Noi siamo pronti, sappiamo benissimo, io sono 40 anni che scio e che soffrisco di questa stazione prima da atleta e poi da operatore turistico, quindi sappiamo benissimo di cosa necessita la stazione. Una brutta sconfitta non soltanto per chi aveva pensato, immaginato questi impianti, ma per tutto il territorio. Questo è un territorio che va vissuto, gli impianti devono essere certamente fatti a norma, devono seguire le regole, devono rispettare le procedure e le norme, ma non si può rifiutare l'antropizzazione, la presenza dell'uomo su un territorio che ha tanta fame di turismo. Già l'avvocatura della regione è stata allertata dal sottoscritto, ma messa in contatto con il comune di Ovindoli si farà un'azione sinergica per capire gli spazi di manovra per un eventuale ricorso. Certamente oggi l'avvocatura è al vaglio della sentenza per capire quali passaggi decisivi hanno comportato questo diniego. proveremo a dare battaglia in tutte le sedi, lo faremo come regione, lo faremo a fianco dei comuni. Voltiamo nuovamente pagina a Santomero, nella chiesa parrocchiale. Si sono svolti i funerali dell'ex sindaco Alberto Pompizzi, alla presenza di numerose autorità politiche che hanno voluto dare l'ultimo saluto. ex sindaci ed attuali di tutto il territorio vibratiano, ma anche gente comune e militanti del partito socialista dove lui è stato la grande protagonista. Vediamo. Grazie a tutti. Oggi è una giornata triste per Santomero, una grande perdita. Santomero piange Alberto Pompizzi sia come politico, come ho già ricordato, un politico di spessore sempre attento e che si è combattuto per il proprio territorio e per la Val Vibrata tutto. Ma soprattutto piange Alberto Pompizzi come persona, come grande uomo, sempre al servizio dei cittadini, con il sorriso in bocca e disponibile per tutti. Oggi provo un profondo dolore, ma non tanto sotto un profilo squisitamente umano. Penso che sia venuta a mancare una delle figure più genuine, più leali, più oneste del socialismo terramano e anche abruzzese. Penso che Alberto ha rappresentato un punto di convergenza e di impulso da parte di tutti i socialisti terramani, ma anche della sinistra terramana e anche della capacità critica che aveva perché era un uomo libero, era un socialista libero e questo per noi rimane nella storia di questo paese, della Val Vibrata e del Partito Socialista e dei socialisti attualmente di tutta la provincia di Tero. I bagni di Alberto ricordo tante cose belle, mi ricordo quando la disfatta del Partito Socialista, lui prese in mano il Partito Socialista in provincia di Tero e lo portò a circa l'8%, avevamo un grande successo. Ad essere ritornato a fare un'altra volta il segretario provinciale, io facevo parte del direttivo provinciale, era un amico, una persona seria, corretta, onesta. Lui si metteva sempre in seconda fila, non era mai il primo, faceva sempre il passo agli altri. E mi dispiace che lui sia andato via, di vero cuore. Ciao Alberto! E da poche ore a Montesilvano c'è la nuova giunta De Martinis. Dopo il rimpasto spazio a tre nuovi assessori di Fratelli d'Italia, Valentina Di Felice, Lino Ruggero e Francesco Di Pasquale sono andate alcune deleghe dei dimissionari Antoni Aliano, Sandra Santavenere e Paolo Di Blasio. Il sindaco ha mantenuto la delega all'urbanistica. Vediamo. È nata poche ore fa la nuova giunta del comune di Montesilvano, sindaco De Martinis. In pochi giorni siete riusciti a trovare la quadra per il nuovo governo della città. Sì, come detto nei giorni scorsi c'era un vuoto da colmare perché dopo la nomina di tre nuovi assessori dovevo attribuire a tutta la giunta delle deleghe, deleghe che non ho in realtà attribuito con leggero ritardo perché vittima di pressioni partitiche o di smodate desideri da parte di qualcuno, ma semplicemente perché ho voluto ragionare le competenze, le personalità di ognuno degli assessori per cercare di dare al territorio quello che merita. Da questo è una composizione che ritengo essere molto funzionale al progetto di riqualificazione e di miglioramento della città. Sono certo che tutti gli assessori, sia quelli che già da anni lavorano con me, ma anche i nuovi, daranno alla città quello che necessita e quello che merita. Un gruppo consigliare che da tempo rivendicava delle postazioni in giunta adesso vede equilibrata questa situazione e questo a livello numerico e cambia semplicemente da un punto di vista numerico, ma come dicevo prima non cambia quello che è quello che anima tutti noi, ossia la voglia di fare bene, la voglia di dare ai cittadini quello che occorre e quindi a questo punto di vista diciamo che c'è quello che mi auguro che si possa continuare a lavorare così come è fatto in questi anni. Con il PNRR arriveranno tanti fondi anche per la città di Montesilvano? Siamo certi di poter intercettare e stiamo lavorando al fine di intercettare tutte le somme messe a disposizione e non a caso ho attribuito una delega specifica all'assessore Comardi proprio per le progettazioni e per ragionare, per lavorare in maniera specifica su questo piano che rappresenta non soltanto per tutta la nazione sicuramente, ma anche per Montesilvano qualcosa di importante. Il porto di Vasto si conferma una infrastruttura strategica dopo che nei giorni scorsi ha eseguito con successo il transito di sette impianti che andranno a comporre un parco eolico nell'Alto Molise. Vediamo. La transizione ecologica passa per il porto di Vasto in questi giorni infatti sono terminate le operazioni di transito di sette impianti eolici completi un carico costituito da 28 sezioni torri corredato dalle rispettive nacelle per le turbine, drivetrain e sette hub tutti pezzi dal peso singolo di 70 tonnellate, oltre a 21 pale, ognuna della lunghezza di circa 75 metri e un peso di 20 tonnellate. Gli impianti costruiti dalla Nordex, società danese, sono destinati alla realizzazione di un parco eolico nell'Alto Molise. Va ricordato che il porto di Vasto rientra nella rete dei cinque terminal più importanti che la A. Galli e Figlio utilizza per la importazione e distribuzione di impianti eolici un elemento caratterizzante dello scalo abruzzese che gli consente di rientrare a pieno titolo tra i programmi di infrastrutturazione previsti dalle linee guida del PNRR. Soddisfazione per il lavoro svolto dell'Agenzia Marittima Vastese è stato espresso dalla committenza che, ancora una volta, ha potuto testare l'affidabilità e la professionalità delle maestranze impegnate nelle varie operazioni di carico e scarico, così come il porto di Vasto, si è fatto apprezzare per la buona viabilità di accesso che ha consentito agevolmente il movimento e le manovre ai mezzi speciali impiegati per il trasporto su gomma. La portualità si conferma un tema di estrema importanza e meritevole della giusta attenzione della politica locale e regionale. Lo scalo di Vasto sta dimostrando concretamente e con i numeri tutte le sue potenzialità. È sempre più necessario dare il via al piano dei lavori già programmati e finanziati e al tempo stesso reperire, anche sulla base delle nuove programmazioni finanziarie, le risorse necessarie per ulteriori investimenti. La delocalizzazione delle aziende e il loro consolidamento si combatte anche attraverso la realizzazione di una rete infrastrutturale moderna per una logistica efficiente e competitiva. E' steso oltre 200 metri quadri e tra i presepi più grandi e più apprezzati d'Abruzzo. Si tratta del presepe di San Silvestro a Pescara curato da 40 anni da Giuseppe Di Lissio. Vediamo. Il presepe di San Silvestro a Pescara è firmato da Giuseppe Di Lissio che abbiamo qui presente per parlare di una tradizione che si rinnova da 40 anni a questa parte. Intanto, com'è nata l'idea di realizzare il presepe qui a San Silvestro? Io sono stato, prima abitavo a Centrale, a Pescara, da oltre 40 anni sono tornato su, avendo tutto lo spazio disponibile sono stato sempre attratto dai presepi e piano piano ho cominciato, prima piccolino in una stanzina, dopo piano piano ho realizzato questo presepe di oltre 200 metri quadri e lo faccio con tanta soddisfazione e con tanto amore perché dobbiamo lasciare ai giovani, ai ragazzi qualcosa di bello, di sano che rispecchia la nostra tradizione, la nostra cultura. Non ha trascurato nessuna particolare, ma c'è qualcosa a cui si è ispirato? Ma no, è ispirato. Io giustamente, essendo un cattolico, noi dobbiamo considerare che il Natale è la religione più sentita anche da parte di altre chiese protestanti, da tutte le altre chiese, quindi praticamente abbraccio un po' tutte le culture mondiali. Io, tanto è vero che mia sorella aveva in diretto delle bambolette abbandonate, allora io per onorare la donna ho cercato di prendere queste bambolette e ci ho realizzato un piccolo presepe concernente tutte le donne del mondo, tutti i costumi delle donne del mondo che vertono verso l'immagine di Gesù, il nostro Signore. È un'opera mia, una mia creatura che preferisco sempre farlo da solo, forse pure contro la volontà dei miei figli, di mia moglie, eccetera, che loro dicono, anzi, pure quest'anno lo devi fare. Per me, in cuor mio, mi sento di realizzarlo per lasciare ai posteri qualcosa di bello e di sano. Siamo alla pagina dello sport. Francesco Ghirelli, presidente della Lega di Serie C, al telefono Collanza, annuncia che si va verso il rinvio anche della 22esima giornata di campionato in programma il 16 gennaio, dopo quello della 21esima già deliberata. Attualmente ci sono 250 calciatori positivi al Covid. I modelli matematici ci dicono che i contagi aumenteranno nella popolazione nei prossimi giorni. Dobbiamo prenderne atto. La salute, aggiunge Ghirelli, è un bene primario. Noi come calcio dobbiamo ragionare da sistema. Domani parlerò con il Consiglio Direttivo e deciderò in base ai dati aggiornati. Ma la tendenza mi pare chiara. E scendiamo di categoria. Il Dipartimento Interregionale ieri ha deciso lo stop dei campionati di Serie D per fronteggiare la situazione contagia all'interno dei gruppi squadra. Nel solo girone F, infatti, sarebbero stati sei rinvii su nove incontri da far slittare. Si tornerà in campo il 23 gennaio. Vediamo. Come è facilmente preventivabile il mondo della Serie D rinuncia alla giornata di campionato di domenica. Dopo la Serie C, che aveva adottato giorni fa il provvedimento, facendo slittare tutto al 15 gennaio, anche il Dipartimento Interregionale si adegua e va anche oltre. La quarta serie va in pausa forzata fino al 23 gennaio, ovvero una settimana dopo il ritorno in campo della Lega Pro. Decisione sofferta e per la quale si è atteso fino all'ultimo. Ma è inevitabile, considerando i molteplici casi che stanno affliggendo le squadre dei nove gironi. Il 23 si ripartirà dalla giornata che sarebbe andata in scena domenica, ovvero la numero 17. I prossimi 12, 16 e 19 gennaio, invece, saranno riprogrammate le gare di recupero non disputate, come da calendario che sarà presto pubblicato. Convastese e Notaresco che devono recuperare i loro incontri rispettivamente con Montegiorgio e Castelfidardo. Match in programma questa settimana, ma che hanno avuto un ulteriore rinvio. La decisione è stata presa tenendo conto dei numerosi rinvii chiesti dalla società, sia per le gare di recupero che per quelle in programma domenica, per accertate e documentate positività dei calciatori facenti parte dei gruppi squadra. Un provvedimento necessario per evitare ulteriori e numerose gare di recupero. Nel frattempo, le squadre in ogni caso potranno continuare a svolgere l'attività nel rispetto delle norme sanitarie vigenti e da quelle che saranno emanate successivamente al 5 gennaio, ovvero di prossima entrata in vigore, previste per l'attività di interesse nazionale dei protocolli FIGC. D'altronde, nel solo girone F, considerati contagi allo stato attuale, sarebbero state 6 su 9 le gare da non disputare. Troppo perché non si arrivasse allo stop. Nel computo complessivo sarebbero state 59 su 85 le partite che non avrebbero visto il fischio iniziale domenica. Si va dalle 4 del girone C, oggettivamente il raggruppamento meno in difficoltà dal punto di vista dei contagi, alle 8 dei gruppi A, B, D, G e I. Ieri tuttavia, nel momento in cui il dipartimento stava decidendo per lo slittamento di due settimane nel girone F, è andato in scena il recupero tra Vasto Girardi e Trastevere, col successo per 3-1 dei molisani, che spianano la strada ad una recanatese che nel momento in cui si tornerà in campo, ripartirà con 5 punti di vantaggio sui laziali. Un bottino cospicuo è che la formazione di Pagliari potrà gestire. Intanto, per il momento, la diva in ferie forzate, sperando che alla ripresa il ciclone Omicron abbia già esaurito la sua carica. Finisce qui il nostro telegiornale. Io vi ricordo che questa sera c'è l'appuntamento con Visionaire Best Of e tutto il meglio del nuovo format di TV6 condotto da Giuseppe Dintino. Il nostro telegiornale termina dunque qui. Prossimo appuntamento alle ore 23. Buona serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.